Sono il maresciallo Sapienza, comandante del Plutone Trasmissioni. Sono arrivata a novembre. Questa è la mia terza missione in Kosovo. Quotidianamente organizzo e coordino le mie sezioni. Garantendo la fornitura dei servizi di comunicazione e informazione. Il mio Plutone si compone di sia donne che uomini, sotto ufficiali o in servizio permanente. Dal 2000 è consolidata la presenza delle donne nell'esercito e anche nelle varie missioni. Ci troviamo talvolta a cooperare con altre donne di altre nazioni. Ed è evidente il senso di appartenenza alla Nato. Sono orgogliosa di far parte dell'esercito italiano e nello stesso tempo della Nato.